Salve a tutti, sono Eliana Galò, sono un'artista e faccio parte dello Star System e colgo l'occasione per salutare tutti. Ciao! Ciao! Salve a tutti, sono Fabio Maddalo, sono un'artista e parte dello Star System e siamo qui riuniti per festeggiare il Natale e auguri a tutti! Ciao a tutti e saluto tutti i componenti dello Star System, sono Fabrizio Luceri, il canto-autore della situazione e anche un attore. Niente, volevo avviare questa discussione in quanto volevo chiedere ad Anna Maria Miccoli come mai ha iniziato ad usare gli orecchini e tanto più quelli con le foglie? Sono piume, precisiamo! Oh! E non ho spennato il mio pappagallino, mi piacciono perché mi piace stare qui con la Star System. Salute a tutti, ciao! Infatti sono piume di pappagallino! Ciao a tutti da Massimiliano Trinchiera, tra dolci e cotillon e stelle cadenti auguro a voi tutti auguri raggianti e splendenti, un buon 2015! Mutaston, non dico più niente! È Natale e dobbiamo essere tutti più buoni! Fabrizio! Qualcuno ha da dire qualcos'altro sulle piume del pappagallino della... Io dico che le domandano! Grazie a te! Troviamo i donati niente! Protezione civile! Io sono un problema! Di penne e... Sono un problema! Star System Gold! Quale migliore cucina di idee per artisti, scrittori, poeti, persone creative? A chiunque fosse interessato lo accogliamo con simpatia e affetto! E basta con questo video! Mi esaurisci! Porca miseria! Non ne posso mai! Buonasera! Sono Massimo Montinaro e sono un attore dello Star System. Questa è una mia piccola interpretazione in quanto attore. Un saluto a tutti i componenti dello Star System. Ciao! Dottoressa? Ah! Ah! All'ora! Ma adesso la gi appropriate! E' un uomo! E' un uomo! E' mo'zzo? È un uomo?! È un uomo! È un uomo! È un uomo! Buoni! Ciao a tutti e rinnovo i miei auguri! E niente. Ci vediamo allo Star System se vorrete partecipare anche voi. magari con le vostre idee. Ciao! Elisa, stai parlando troppo con i miei corsi, eh? Per la serie è una regione in cui ci dà, ma le aspettate a tutti. Beh, tutto non si può fare nella vita, no? Faccio un balletto, dai! Andiamo! No! Io, 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 io! Buonasera, sono Agostina Migli, sono un'attrice e faccio parte dello staff della regista Anna Maria Fungentile. E a te auguro a tutti voi Buon Natale! Tutto figo! Allora, faccio la domanda, non faccio la domanda, non faccio la domanda, non faccio la domanda! Ciao! 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 Grazie a tutti.